buongiorno devo creare un po' di ambienti che mi sono utili per il supporto, però volevo fare prima un po' di pulizia e poi devo risolvere un po' di problemi che si protraggono ormai da anni, mesi prima di tutto i nomi devo cambiarli perchè qui ho fatto una confusione enorme, pian piano che ci mettevo mano win10 deve diventare win11 qui non c'è più senso di esistere questo sta benissimo questo qui deve prendere il nome di quest'altro e viceversa perchè questo è diventato il clean quindi questo è wordpress server pulito e questo qua invece è produzione, prove eccetera eccetera, questi qui sono cloni quindi magari se scrivo anche che sono cloni mi fanno capire quindi devo andare a fare un bel rinomina delle macchine e poi devo creare un'altra macchina virtuale da zero sarebbe il caso di creare dei template o dei container ma non c'ho tempo devo fare una roba veloce quindi andiamo a vedere come fare il cambiamento dei nomi quantomeno allora in teoria lo si può fare anche da qua edit perfetto win11 buona e vediamo se un riavvio questa poi si chiammerà win11 poi windows server clean e invece questo qua è windows server web server test questo qui è clone dell'altro lasciamo così e già è meglio perfetto si sono aggiornati ok più veloce di quanto sembra poi andiamo a dare al web server test devo dargli andiamo a vedere nell'hardware andiamo a vedere quanto è grosso lo spazio di hard disk ok sti 30 giga mi si sono saturati in meno di due test praticamente quando ho fatto la serie di web lab non riuscivo a caricare una roba tipo adesso lo faccio vedere vi dico anche più o meno quanto qui abbiamo un backup del database di upload esatto l'upload di 1 giga e 6 quasi 1 giga e 8 1 giga e 8 non c'entrava vuol dire che qua ho di 30 giga saturi tutto ve lo faccio vedere l'avvio questa macchina vi faccio vedere tramite la shell che sono già impiccato e quindi non potendo caricare l'upload ok che non mi servivano però il sito rimaneva senza senza la parte upload di wordpress rimane senza foto senza foto fanno poco brutto andiamo 55 vedete pizza più senza foto rimane così senza cioè ha tirato qui ci sono tutte le foto c'è tutto il carretto bello pieno di foto che non funzionava quindi no almeno cioè se deve essere caricato e metti che c'è un problema anche con le foto devono passarci sopra anche le foto e se vado a vedere nella shell nella console eccolo qua entro ok do un df-h df-h abbiamo una root piena all'83% si vede poco fidatevi una root piena all'83% available quindi disponibile 1,7 giga che è giusto giusto la cartella upload di un solo sito quindi cerchiamo di arrivare almeno al doppio voglio stare tranquillo poi le cose le cancello man mano però voglio stare un po' più tranquillo quindi qui devo allargare nell'hardware devo allargare il size in teoria l'avevo già allargato di 10 giga questo 30 che vedete dovrebbe essere già un allargamento perché qui dovrebbero essercene 20 ritorniamo qua no dai non mi fa rientrare ok vediamo di dare fdisk meno l permiso negare ok sudo su meno come super amministratore fdisk meno l in teoria size 18 giga esatto ho 18,5 più un giga e mezzo quindi siamo a 20 giga e un megabyte di boot quindi abbiamo 20 giga avevo aggiunto 10 giga in un momento di disperazione per fare le cose al volo ma il sistema nostro non me l'ha prese quindi devo incicciottire l'hard disk va con una serie di comandi che ovviamente non ricordo ma io mi sono fatto i video quindi vado a rivedermi i miei video e mi do una risposta intanto che trovo la guida giusta vado a fare un backup della macchina virtuale che è sempre meglio backup storage si giusto snapshot ok fa lo snapshot dovrebbe essere tutto già preso vai perfetto vediamo la velocità spaventosa 300 megabyte al secondo wow 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 ok grazie a tutti Grazie a tutti.